Ciao e ben ritrovato! Oggi dove siamo? Oggi siamo a Iseo, sul lago di Iseo chiaramente. Hi everybody! Today we are in Iseo, Lake Iseo, in the northern Italy. Puoi trovare la storia di questo fantastico luogo nei sottotitoli, quindi attiva i sottotitoli. Puoi trovare la storia di questa bellissima città in le captioni, quindi avviciniamo le captioni. Iniziamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!